in condizioni di emergenza se ci capita di esserci ustionati può essere utile rimedi casalinghi applicare quindi dell'olio d'oliva alcuni suggeriscono il burro o yogurt sostanze un po grasse che hanno un effetto protettivo contrastano la disidratazione legata al calore proteggono le fibre nervose disperdendo quindi il calore quindi in condizioni proprio di estrema emergenza ma sarebbe meglio avere prodotti a casa lenitivi per contrastare questo genere di situazioni quello che bisogna assolutamente evitare invece è di esporre poi la pelle dopo aver applicato degli oli o delle sostanze così grasse perché queste non fanno che assorbire la radiazione e produrre ancora più calore in profondità